bentornati a lampi di tesla tenetevi forte perché questa puntata sarà a dir poco spiazzante perché dopo aver eliminato l'uso del radar tesla ha deciso di eliminare anche l'uso dei sensori ultrasonici di prossimità i sensori di parcheggio quei 12 bottoncini che abbiamo tutti intorno alla nostra auto sul paraurti anteriore e sul paraurti posteriore prima di analizzare questa decisione ci tengo a fare un paio di premesse importanti perché l'argomento è abbastanza delicato e va capito lo scopo di questo canale non è di dare dei giudizi di merito primo perché non ne sarei in grado e secondo perché non lavoro in questo campo e tantomeno lavoro per tesla ma l'obiettivo è quello di cercare di analizzare spiegare e capire il perché di determinate decisioni come questa ve lo dico perché già oggi ho letto in giro varie opinioni giudizi di cotte e di crude sebbene le opinioni siano più che legittime i giudizi invece non lo sono perché nessuno a oggi ha provato questa tecnologia e quindi è impossibile dare un giudizio a priori ancora prima di testarla sul campo e questa è sempre stata la mia filosofia dall'inizio da quando ho cominciato a fare i video con l'fsd la seconda cosa che ci tengo a dire è dare un contesto quando si fa innovazione seria a questo ritmo si vive sempre sul filo del rasoio e proviamo a fare due esempi che secondo me sono calzanti se pensiamo all'invenzione del mini disc da parte di sony era un progetto che avrebbe rivoluzionato completamente il mondo della musica compatto digitale una qualità altissima e invece è morto lì non ha avuto successo un fallimento totale dall'altro lato pensiamo all'iphone tutti hanno criticato fortemente la decisione di non avere tasti fisici e invece ha avuto ragione e ha rivoluzionato totalmente quel settore tanto che oggi praticamente non esistono più cellulari con tasti fisici quindi quando si vive un'innovazione di questo tipo o si rivoluziona l'ambito oppure si fallisce miseramente e non possiamo dire oggi se le decisioni che ha preso e prenderà tesla andranno in una direzione o andranno verso l'altra direzione quindi da signor nessuno nel mio garagino nella mia model 3 mi permetto di darvi un consiglio sia che abbiate una tesla che l'abbiate ordinata che siate appassionati o che pensiate di ordinarla se non siete pronti per sposare questo tipo di filosofia forse è il caso di ripensare alla scelta della vostra auto perché la direzione ormai è presa ed è questa e non si torna indietro se non vi sentite sicuri di proseguire in questa direzione il mio consiglio ripeto da signor nessuno è quello di pensare a un'altra marca di auto e questo ci tenevo davvero a dirlo perché altrimenti ci potrebbero essere dei malintesi in futuro ma ora veniamo a noi ed andiamo ad analizzare esattamente il comunicato di tesla che vi lascio comunque in descrizione perché sul sito ve lo lascio anche qui a fianco in modo tale che mentre ve lo racconto avete un riferimento e se volete leggerlo potete fermare il video e leggerlo tranquillamente voi stessi allora tesla ovviamente dice che la sicurezza è sempre stata l'obiettivo principale in tutte le decisioni e che dal 2021 ha cominciato al passaggio alla tesla vision che ben conosciamo rimuovendo il radar fisicamente proprio dalle auto vi ricordo prima negli stati uniti da marzo 2021 e poi anche in europa e cina da marzo aprile 2022 fino poi ad arrivare a un mese fa con l'ultimo aggiornamento dove tesla ha disattivato il radar a tutta la flotta il paragrafo successivo quello sotto dice che ovviamente la rimozione del radar ha comportato delle migliorie che man mano andando avanti con gli aggiornamenti hanno appunto reso il sistema sempre più sicuro e sempre più adatto alla guida fino a raggiungere addirittura prestazioni superiori per esempio qui parla nella frenata d'emergenza con i pedoni ed ecco che arriva la notizia bomba dove tesla dice che da oggi parte il prossimo passo verso la tesla vision dove vengono rimossi appunto i sensori ultrasonici da model 3 e model y leggendo sotto c'è una precisazione c'è il perché e questo è il punto focale secondo me di tutto il discorso perché con la rimozione dei sensori ultrasonici tesla introduce la quella che viene chiamata ed è stata spiegata anche alle idee di settimana scorsa la occupancy network che cos'è l'occupancy network bene facciamo una piccola digressione e ve la riassumo brevemente tesla tramite le telecamere va a creare un modello 3d della realtà cioè va a creare proprio una matrice fatta di piccoli pixel tridimensionali intorno all'auto questo sistema comporta degli innegabili vantaggi rispetto all'analisi delle sole immagini e questo è stato spiegato in più occasioni ma proprio nell'ultima occasione in maniera molto precisa la settimana scorsa durante lei ai dei e questo sistema è già in uso negli stati uniti con le fsd beta io personalmente credo che in una delle ultime versioni che ho provato fosse già presente perché perché quando andavo a parcheggiare la macchina sullo schermo nella parte sinistra vedevo una sorta di bozza di quello che potrebbe essere considerato la visione dall'alto a 360 gradi per il parcheggio una bozza e non era esattamente quello che avviene per altre marche dove si vede la ricostruzione 360 però ecco secondo me già era presente questa nuova tecnologia di occupancy network ecco ci tenevo a spiegare che cosa fosse per andare avanti che cosa succede quindi per le auto che usciranno dalla fabbrica d'ora in poi senza i sensori almeno nel primo periodo che poi è esattamente quello che è successo anche quando hanno rimosso il radar cioè c'erano delle piccole limitazioni la prima limitazione è che non ci sarà almeno ripeto temporaneamente non ci sarà quel cicalino che indica la distanza dai vari ostacoli la seconda limitazione sarà l'auto park quindi sia parallelo che perpendicolare non funzionerà e i due tipi di summon quello normale e quello avanzato ecco queste quattro funzionalità inizialmente non funzioneranno nel futuro ovviamente verranno reintrodotte quando tesla sarà sicura del loro funzionamento ottimale quantomeno negli stati uniti sappiamo che il summon in europa è limitato per motivi legislativi ma tralasciando questo tutte le restanti funzionalità di sicurezza e di autopilot rimangono assolutamente attive perché a oggi comunque autopilot non utilizza i sensori di prossimità per funzionare ora tesla risponde a qualche domanda la prima domanda è come mi accorgo se la mia auto ha i sensori oppure no e qui tesla ci dà un'indicazione molto chiara e dice che le auto che verranno prodotte da ottobre in poi ottobre adesso cioè quelle che sono in produzione in questo momento già non hanno più i sensori e tesla non parla solo gli stati uniti perché parla di nord america europa middle east e taiwan quindi anche per l'europa cioè le auto che questo è quello che dice tesla che vengono prodotti a shanghai per l'esportazione in europa già in questo trimestre non dovrebbero avere i sensori di parcheggio comunque sia per sapere se ce li avete o no basta guardare se ci sono proprio quei bottoni su rotondi sul sui paraurti qui una domanda molto importante sulla sicurezza dove tesla dice che tutte le omologazioni di sicurezza non hanno alcuna variazione sia che ci siano o che non ci siano i sensori di parcheggio altra domanda importante cioè per chi ha l'auto come la mia che ha i sensori verranno disabilitati e tesla in questo caso dice no per ora i sensori rimangono attivi quindi è una cosa che riguarda solo le nuove auto ma non è niente di nuovo perché è successa esattamente la stessa cosa con il radar quindi magari tra un anno tesla li disabiliterà anche sul resto della flotta e come dicevo prima comunque la strada è questa e a un certo punto tesla deciderà di disabilitarli e poi l'ultima domanda non fa che ripetere quanto abbiamo già visto precedentemente cioè ci sono delle funzionalità limitate e tesla risponde che con questa prima tabella tutte le funzionalità di autopilot e di sicurezza rimangono assolutamente invariate mentre le uniche quattro funzionalità che subiranno dei ritardi ma secondo me già a novembre saranno attive sono appunto l'assistente al parcheggio quindi il cicalino il parcheggio automatico e le due funzionalità del sammo bene questo è il comunicato quale qual è secondo me il messaggio che dobbiamo recepire che tesla ormai ha preso la sua strada tesla è talmente sicura della sua tesla vision only che non ha bisogno di altro quindi si rifarà alle telecamere gestite dal software e questo è il punto centrale appunto il software che va a gestire completamente i sensori non è non è importante quale sensore si usi che sia la telecamera il radar il lidar o i sensori ultrasonici la cosa importante è come le risultanze di questi sensori vengano integrate e poi vengano utilizzate per far reagire la macchina a me viene in mente un vantaggio per esempio di questo sistema i sensori ultrasonici non vedono al di sotto dei 20 centimetri quindi i marciapiedi non li vedono con questa ricostruzione tridimensionale invece avremo anche la visione di ostacoli più bassi dei 20 centimetri questa è la prima cosa che mi viene in mente ovviamente ci potrebbero essere dei lati negativi sicuramente ci saranno all'inizio esattamente come è stato per il radar io comunque ho un'esperienza un po più lunga di chi ha usato l'auto in italia senza radar perché il mio radar è stato disabilitato appena ho avuto la beta quindi più di un anno fa e ho visto effettivamente dei miglioramenti anche nell'autopilot normale rimanendo in ambito di autopilot normale ecco con l'introduzione a questo punto delle occupancy network anche al di fuori dell'fsd beta credo che ci sarà un netto miglioramento anche di autopilot normale ma questo lo scopriremo davvero a breve con qualche aggiornamento cosa dire decisione interessante spero di essere riuscito a darvi il contesto entro il quale è stata presa questa decisione mi asterrei da giudizi di merito le opinioni sono sempre benvenute se argomentate e aspettiamo di vedere come andrà io rimango estremamente positivo e fiducioso perché se tesla ha preso questa decisione si sarà fatta i suoi conti questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao